C'è già aria di nostalgia all'ultima tappa di questo memorabile Tour de France 2023, ultima tappa anche della carriera di Peter Sagan al Tour, la giornata nella quale Giulio Ciccone potrà esibire la sua nuova bicicletta à poire, è la passerella degli Champs-Élysées, un focus su tutti i protagonisti, Sepp Kass e Carlos Rodriguez, usciti a pezzi dall'ultima tappa di montagna, lo portano a termine proprio con quello spirito che viene portato avanti sin da quando nel 1903 Géo Lefevre e Henri de Grange idearono il Tour de France. La maglia gialla Jonas Vingegord oggi potrà rilassarsi finalmente e a bere un po' di champagne sulle rive della Senna dopo una lunghissima e estenuante battaglia è dal 1975 che il Tour arriva sempre sull'I Champs-Élysées per la tappa 21 con il consueto circuito, tre passaggi sulla linea d'arrivo dopo la prima fase, che è solo ed esclusivamente fino a quando non si entra in città una passerella neutralizzata. È la tappa che ogni sprinter del mondo vorrebbe vincere, l'anno scorso ha vinto Jasper Philipsen la maglia verde e plurivincitore con quattro tappe di questo Tour, Viktor Kampners invece ha vinto il premio di Super Combattivo e ruba la scena ai primi chilometri con un attacco dei suoi. È tempo poi di festeggiare le quattro maglie di Philipsen Ciccone, Pogaccia e Révingegord, è il turno poi della parata dei danesi e infine di quella della Jumbo Visma, tutti insieme alzano un calice come di consueto e c'è anche un pezzetto di Faut Fanart insieme a loro. Il fenomeno belga è a casa col suo secondo genito ma ha dato decisamente il suo apporto per la conquista di questo secondo Tour consecutivo di Vingegord e della Jumbo Visma, il passaggio in alcuni dei posti più iconici del pianeta. La Ville Lumière accoglie come si deve un gruppo che ha dato tantissimo spettacolo negli ultimi 21 giorni e chi dà più spettacolo di Tadej Pogacar che a 50 chilometri dall'arrivo non appena usciamo dalla neutralizzata parte all'attacco sfida tutti col sorriso con la lingua di fuori anche oggi ha voluto esserci Tadej Pogacar subito seguito da Nathan Van Oydonk dietro di loro si aggiungono un altro po' di passistoni diventa molto pericolosa la situazione le squadre dei velocisti sono chiamate sostanzialmente a correre forte per tutti gli ultimi 50 chilometri appena vengono ripresi ripartono altri tentativi è la rumba degli attacchi degli Champs-Élysées con le squadre dei velocisti come Alpesindöcknik, Zayko Alula e anche la Lidl Trek di Mats Pedersen che devono guadagnarsi la pagnotta o meglio la baguette con questi giri intorno all'arco di trionfo per questo terreno che ricordiamo è in pavé a qualche sue due un paio di passaggi molto tecnici il gruppo deve stare molto attento perché continua a partire gente fino a pochi chilometri dalla fine ma è lì la Alpesine è lì la Lidl Trek con Matthias Schelmos che fa ancora una volta un grandissimo lavoro la Zayko porta tutti alla neutralizzazione dei meno 3 ora è ufficiale Jonas Vingegord ha vinto il Tour de France 2023 anche se in realtà poi la neutralizzazione riguardava tutti gli ultimi due giri per leggera pioggia ultima curva rettilineo finale è l'ultima volata del Tour de France c'è ancora una volta Mathieu van der Poel a fungere da Lidout per Jasper Phillips è il re delle volate vincitore qua anche l'anno scorso ecco van der Poel con la sua lunghissima trenata che lo porta ai meno 2.50 poi però quando si sposta dietro di lui c'è Dylan Groenewegen che parte lungo cerca di anticipare Phillips che poi ne prende la ruota lo sorpassa sulla destra ma ci sono anche Mads e Jordi Meus è un photo finish fra Phillips e Meus e la vittoria a sorpresissima è di Jordi Meus il velocista della Boras Grohe che batte Phillips al photo finish Groenewegen e Mads sono un po' dietro photo finish sulle Champs Elysees di un tubolare cosa c'è di meglio per uno sprinter l'esultanza giustamente sguaiata della Boras Grohe con Marco Haller che l'avea portato fino alla ruota di Mads Pedersen dal quale è uscito lì sulla sinistra non se l'aspettava nessuno e invece Jordi Meus ha battuto tutti belga 25enne che ha sempre avuto ottimi piazzamenti e ottime aspettative ma è la prima vittoria world tour in carriera ma sugli Champs Elysees vinci solo se sei veramente un duro dopo 21 giorni di gara e su quel terreno difficile arriva la Jumbo Wisma in parata con Jonas Vingegord che viene festeggiato dai vertici della squadra più forte del mondo che ha dominato anche questo Tour de France ricordiamo gli insuccessi della Jumbo nei tour precedenti e invece ora ne hanno portati a casa due di fila Viktor Kampenertz è il super combattivo e riesce a salire sul podio delle Champs Elysees così come tutta la squadra della Jumbo un all star team Nathan Van Oydon, Dylan Van Barle, Tiche Benot, Christophe Laporte, Wilco Kelderman, Sepp Kass, Jonas Vingegord e pure che era a casa Tadej Pogacar vince la sua ennesima maglia bianca sono quattro con questa oltre al secondo posto e altre due tappe ora ne ha 11 in carriera al Tour de France Tadej Pogacar è crollato nella tappa del Col de la Lose ma ha dato spettacolo anche in questo Tour Giulio Ciccone non sarà Pogacar vince Gord ma porta a casa il podio degli Champs Elysees la foto in cameretta e la consapevolezza che con questo stesso sistema di punteggi negli anni scorsi avevano sempre vinto uomini di classifica Jasper Philipsen oggi è arrivato corto così dalla sua quinta vittoria in questo Tour arrivato un po' con la lingua di fuori alla terza settimana probabilmente il fortissimo velocista belga quattro tappe per lui un dominio totale sulle volate oggi non aveva la gamba degli altri giorni battuto da un grande Jordi Meus e ovviamente il podio finale Jonas Vingegord, Tadej Pogacar e Adam Yates con la UAE che fa doppietta di podio sicuramente un'ottima soddisfazione primo podio in carriera in un Grand Tour per Adam Yates che batte il suo gemello Simon Carlos Rodriguez, Pellio Bilbao, Jay Hinley, Felix Gall, David Godud e Guillaume Martin completano la top 10 di questo Tour de France con Jonas Vingegord che stamattina in tutto ciò ha annunciato che correrà la Vuelta Espagna al fianco di Primoz Roglic vincitore del giro per un 3 su 3 di squadra nei GT che nessuna squadra ha mai raggiunto prima d'ora questo era il Tour de France 2023 questo era Pietre per GCN un ringraziamento e un saluto a tutti noi ci vediamo al Tour Femme e ai prossimi video